Un match importante è quello di Tour per tanti motivi, anche perché supererai il tuo amico Baritto a 340 presenze e diventi il secondo giocatore più presente della storia di Trentino World. Sì, sono molto contento, è un motivo di grande orgoglio per me, è un obiettivo importante. 340 partite sono tante, dopo 7 anni qui a Trento per me è veramente un orgoglio, questa è casa mia, quindi sono strafelice. Ma questa sarà una partita molto più importante, perché c'è in pali una Coppa, sarà una partita dura, come giusto che sia, ma naturalmente ce la metteremo tutta, noi cercheremo in tutti i modi di portarla a casa. La zero dell'andata può essere fuorviante da un certo punto di vista? No, credo di no, perché abbiamo giocato solo pochi giorni fa a Istanbul contro Fenerbahce e lì è stata dura, venivamo da un 3-0 in casa ed è stata veramente dura, complicata, abbiamo imparato tanto da quella partita e io mi aspetto una partita del genere, perché loro giustamente proveranno a portarla a casa, rischieranno tutto in battuta, magari faranno delle cose diverse da quelle che fanno di solito, cercheranno di metterci in difficoltà in tutti i modi e noi dovremmo farci trovare pronti, abbiamo naturalmente le nostre armi da giocare, l'obiettivo è uno, unico per tutti, siamo molto concentrati. Tu c'eri in occasione dell'ultima vittoria europea della Trentino Volley a Bolzano, indimenticabile nel marzo 2011, si respira comunque una certa atmosfera particolare, anche se è una Coppa, la Coppa ceva è meno importante della Champions? Sì, sì, ma questa è sempre una competizione europea molto importante, noi vogliamo portarla a casa, vincere non è mai facile, non lo sarà neanche domani. Io ricordo benissimo la Champions vinta a Bolzano, una grande emozione, grande gioia, era uno dei miei primi trofei e noi assolutamente vogliamo rivivere quelle emozioni. Grazie a tutti.